6 e 15 La seconda prova per i predichi hanno fatto prima i 1.5 Allora, cosa è da Luca? No, Andrea C'è? Annibelo Salvatore Prepari Gianchi Francesco Grazie mille Grazie mille 7 e 0 e 9 Grazie mille Grazie a Francesco 3,93 Buonacchino Alessandro, Cordio Stefano Prepari Bercesi Andrea 4,96 7,93 Buonacchino Non vuole neanche scorto. Romellino Alessio! Ehi chi? Ehi chi? No, vai. Alla finita, non lo faccio. Ti fa schifo un po'. No, vedevo via la sabbia e basta. No, vedevo via la sabbia e basta. Attenzione in marcia 2018. Perugia, ragazzi. Grazie a passificata. Leboloni in marcia. 4,59. Seconda classificata. Forconi-Claudia. Wasser D'Affredo. Prima classificata. Famite di schiena. Gensinetto-Scarpolo. Scemo un po' benvenuto. Facciamo un po' benvenuto. Facciamo un po'. Un po' che mi ha fatto correre tanto. 3,90. Non mi ha fatto correre tanto. Sento un po' e basta. No, oggi per cui c'è l'anno alla diretta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.